C'è, io lo so, potrei anche andare via in barella, però sì ci sta, io mi butto dentro la mischia, sempre e comunque. È uno scontro vero, ci spicchia, io nel 94 sono stato 15 ore in sala operatoria, ho avuto questo occhio in mano, ma non avevo tutti i denti di bocca, quest'anno speriamo, perché c'è anche il mio figlio, il giovane, 18 anni e tutto. E se devo morire, preferisco morire in piazza Santa Croce, no? Che morire in un letto in ospedale. Perché bisogna parlare proprio di morte, scusate? Cos'è sta cosa? No, 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 no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.